Sindaco, le mallingue dicono che oggi si è andati a rinvio perché la maggioranza non aveva i numeri. Lei cosa risponde? Basta guardare chi c'era in maggioranza questa mattina per vedere che i numeri c'erano. Le mallingue fanno parte del gioco ma vengono smentite dai fatti. Io credo invece che oggi l'amministrazione, la maggioranza, insieme ad un'opposizione responsabile, abbiano dato prova di sensibilità istituzionale, di rilevanza anche dell'attività del Consiglio, cercando di fare un passaggio condiviso, un ulteriore momento di confronto su una delibera così importante per la città. Quindi a fronte di questa richiesta come Sindaco non ho potuto che accoglierla, accoglierla con grande rispetto per le posizioni di tutti i consiglieri comunali, di opposizione, di maggioranza e credo che sia un passaggio importante anche per la solidità di una concessione che sappiamo essere importante, una richiesta importante su cui c'è stato un primo confronto tra l'amministrazione e il proponente e su cui adesso il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi in piena autonomia, libertà e consapevolezza. Ecco perché questi passaggi sono utili, avremmo potuto forzare con una prova muscolare a provare a maggioranza questo provvedimento. Abbiamo deciso insieme, in una buona conferenza di capigruppo coordinata dal Presidente, con un'opposizione responsabile e costruttiva.